Chiaramente è uno strumento che non è centrato solo sui financial results, ma anzi è proprio centrato sulle cause dei risultati, in particolare sulle risorse intangibili, che sono quelle realmente più importanti. E guarda caso, questi tre requisiti rispondono molto bene a quello che è un po' il concetto al foundation indicati da Kaplan nel 2010. Kaplan continua a scrivere di Ballas Corcar, continua a scrivere di Activity e quasi è peggio di me che continuano a scrivere e continuano a parlare di questi strumenti, ma perché? Perché credo che al di là di quelli che possono essere degli aspetti professionali di interesse suo, c'è anche la convinzione che sono strumenti davvero importanti per le imprese. Nel presente che Kaplan con Porter ha affrontato tutto il discorso dell'Activity per applicarlo in modo molto trasparente nella sanità statunitense, che credo voi sappiate è ben lontana dalla sanità italiana, con tutti i difetti che ha la sanità italiana, ma almeno i costi sono più gestibili, più conosciuti, più trasparenti. Lì diciamo che è ancora tutto molto fumoso e quindi c'è stato questo contributo molto interessante di Kaplan e Porter che vi invito a cercare sulle pagine di Harvard Business Review. Ma ecco che i tre sono, prima di tutto, selettività, secondo aspetto importantissimo, costante e ulteriormente al futuro e terzo aspetto, rapidità di esecuzione anche se non è l'azione che io devo otterprendere inserita nel piano. Bene, queste tre cose voi le ritrovate tranquillamente, e indovinate voi, nella balance core card. La balance core card, applicata bene, si presta moltissimo a questi discorsi e quindi senza nessun momento neanche lontano di indugio, passo subito a ricordarvi che cos'è questa balance core card, che voi sapete è un modello che suggerisce di pianificare le attività aziendali dando priorità a quattro prospettive. La financial perspective, la vedete in questa figura in alto, è la sintesi, è quella che rappresenta i risultati, quello che io riesco a fare a livello di clientela, a livello di processi, a livello di learning innovation perspective. Questo discorso ovviamente è il discorso originario, poi avremo modo, penso, in uno dei prossimi seminari anche di parlare della sustainable balance core card, ma cambia poco, l'idea è sempre quella di avere quattro prospettive, non di più. Perché? Perché io devo essere con uno strumento selettivo, semplice, che mi aiuta a essere agile, a essere rapido nell'intervenire. Se io inizio ad avere dei piani che ci impiego una giornata a leggerli, voi capite che una volta che ho letto e poi li devo discutere, invece questo è uno strumento che con pochissimi momenti anche di verifica, di controllo, può essere utilizzato per verificare che punto ci si trovi nella realizzazione, nella missione degli intenti strategici, quindi nella strategia di esegucio. Questa è la balance core card. Per parlare della balance core card, ovviamente, bisogna ricordare che i tre requisiti che abbiamo detto vengono rispettati solo se si rispettano tre condizioni importanti nella realizzazione della balance. Io purtroppo devo dirvi che in questi anni ho visto in molte aziende realizzate cose che venivano chiamate balance core card, ma che non avevano niente a che fare con la balance core card. Quindi diffidate da chi usa a sproposito questo termine. È un termine, quello della balance core card, dove innanzitutto, ripeto la cosa molto importante, quattro prospettive e non una di più. Perché se no vado nella logica di complicarla, applicare lo strumento senza averne dei benefici particolari. Tant'è vero che anche il discorso sustainable non vuol dire aggiungere altre dimensioni, ma vuol dire utilizzare i quattro, ovviamente, in modo diverso. Comunque, la prima cosa fondamentale per rispettare questi requisiti è che si espliciti la strategia aziendale e se ne condividano gli intenti strategici. Quindi il primo aspetto è un po' questo. Allora, io poi vi lascio questo caso, ve lo guardate poi con calma, vi darò anche il caso scritto accanto al materiale video. Non lo possiamo vedere perché se no faremo praticamente, se lo vedessimo nel dettaglio, altro che tre quarti d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, faremo molto di più, invece la selettività mi impone di essere no rapido nel presentarvi la cosa. Però questo caso vi aiuta a capire che può essere applicato in diverse realtà. Qui l'azienda è un'azienda di medie dimensioni, 40 milioni di ricavi, che, diciamo, nel settore dell'ITS, della distribuzione di ITS, è una dimensione media, ma potrebbe essere tranquillamente applicato anche a un'azienda di 5, 10 milioni di fatturato, quindi molto più contenuto. Invece, lì c'è sostanzialmente un'idea. L'azienda vuole crescere, ha una strategia sfidante che, a livello nazionale, la porta a focalizzarsi su alcune aree, su alcune regioni, Lombardia e Veneto, dove, peraltro, c'è una certa intensità di concorrenza. Quindi, per fare un'azione di questo genere vincente, una strategia di preparato, una strategia di questo genere in modo vincente, vengono indicati i quattro intenti strategici che voi vedete. Posizionarsi con i prodotti distribuiti sulla fascia di medio-alto di gamma, sviluppare le competenze destinali e digitali dei dipendenti, nuovi punti vendita sul territorio, mantenere e migliorare immagini di intermediazione sugli attuali livelli per facilitare un autofinanziamento importante. Bene, l'unica cosa che posso dirvi, in modo che così capite quanto può essere utile lavorare con un minimo di piano in testa, noi abbiamo elaborato questa balla scoccata quando sì, c'erano probabilmente già in nuce delle possibili aggivolazioni fiscali per chi operava nel settore. Però il 110% è venuto dopo. Ed è stato ovviamente una esplosione di gioia per l'azienda perché chiaramente ha consentito soprattutto dei consumi nella zona Lombardia e Veneto, che sono due zone abbastanza ricche della nostra Italia, di andare su bagni e su soluzioni tecniche anche di tipo, ovviamente, tipo appunto i discorsi di riscaldamenti piuttosto che a ricondizionare, tutto un insieme di prodotti che ovviamente hanno tutta la gamma, dal basso di gamma all'altissimo di gamma. Il livello intermedio è comunque già un livello più che interessante dove alcune aziende si stanno anche muovendo, anche aziende italiane si stanno muovendo molto bene. C'è poi anche una presenza estera perché sia sulla urbineteria che sugli scaldabagni che su altri prodotti, sui condizionatori, su pompe di calore, ovviamente c'è un mondo che è un mondo non solo, soprattutto non italiano. Comunque, vedete, questo è un discorso così molto interessante che ha consentito di dire beh, ok, lì abbiamo chiarito bene quali sono strategie e intenti strategiche. Qual è il secondo aspetto che io devo preoccuparmi di realizzare con assoluta attenzione? Il secondo aspetto è questo, è elaborare una mappa strategica. Perché? Perché la mappa strategica è quella che mi costringe a ricercare le relazioni di causa-effetto tra le variabili di gestione operativa e la strategia. Quali sono le variabili di gestione operativa da cui dipende l'attuazione della strategia? La crescita in un mercato come quello Lombardo e Veneto per questa azienda ETS è un'attuazione. Grazie.